Progesia è nata nel 2015, è una società benefit che accompagna le altre aziende in un percorso di crescita e di consapevolezza rispetto alla sostenibilità e all'impatto sociale. E' dunque uno di quei soggetti estremamente interessanti da conoscere perché svolgono una funzione di accompagnamento, di transizione del mondo dell'impresa all'interno del nostro ecosistema subalpino per maturare una consapevolezza sempre maggiore sul fronte della impact economy. Mi chiamo Antonella e dirigo Progesia, società benefit che ha sede qui a Torino al circolo della stampa. Ci occupiamo di supportare e accompagnare le aziende in un percorso di crescita in cui il fulcro principale è la sostenibilità, sia a livello etico e sia a livello di competitività. Progesia si occupa di accompagnare le aziende nella transizione verso la sostenibilità. Non parliamo solo di aziende che si approcciano la prima volta alla sostenibilità ma anche aziende che effettivamente stanno già facendo azioni ma hanno bisogno di una direzione. Siamo verticali sull'impatto sociale e anche digitale. Insieme alla nostra rete di impresa copriamo tutte le aree della sostenibilità come la governance e la sostenibilità economica. Grazie a questa rete di impresa che ha sede qui a Torino, Roma e Milano riusciamo a supportare le aziende non solo del territorio diciamo piemontese ma anche su tutto il territorio nazionale. L'impatto sociale significa riuscire a coinvolgere a livello di valori e di cultura le persone in ottica di sostenibilità e fare in modo che all'interno di ogni azienda ma anche fuori si trasmetta l'idea dell'equità e dell'inclusione. Per questo noi puntiamo moltissimo quando lavoriamo nelle aziende al coinvolgimento del personale sia attraverso la formazione ma sia attraverso anche agli strumenti tecnologici quindi attraverso l'accessibilità agli strumenti digitali all'interno e all'esterno delle aziende.